Ciao a tutti i cetriolini, siete tornati in questo nuovo video, io sono Alecetriolo, oggi siamo su Brawl Stars Questa clip la sto registrando dopo che ho fatto la clip che vedrete nel video Vi volevo annunciare che ho fatto 9 kill in solo con Corvo, quindi li ho uccisi tutti io Controllate pure, tanto lo vedrete In alto a sinistra mi pare, dove farà vedere chi uccide le persone In alto sono arrivato a 10.000 trofei, ho parto la megacast e non ho trovato un cavolo Sono a 9.966 perché c'è stato il drop della fine di stagione Infatti Penny e Corvo hanno perso 50 trofei a testa Detto questo vi lascio la clip Ciao a tutti i cetriolini, ciao a tutti i cetriolini, ciao a tutti i cetrioli Ciao a tutti i cetriolini, ciao a tutti i cetriolini, ciao a tutti i cetrioli Ciao a tutti i cetriolini, ciao a tutti i cetrioli Ciao a tutti i cetriolini, ciao a tutti i cetrioli Ciao a tutti i cetriolini, ciao a tutti i cetriolini, ciao a tutti i cetrioli Ciao a tutti i cetrioli